La Natura Insegna è l'ultimo progetto messo su dalla Fondazione Emanuele Scifo. Allora Emanuele ce la vuoi spiegare nei dettagli, che significa questo progetto e qual è la sua finalità? Il progetto La Natura Insegna nasce innanzitutto dalla volontà e dall'impegno della cooperativa Il Cantico di affacciarsi al campo della ricerca. Avendo avuto l'iscrizione all'anagrafe degli enti di ricerca, quest'anno con l'equip dei professionisti che girano intorno al Centro per le Patologie del Neurosviluppo, abbiamo deciso di creare questa progettualità. Questa progettualità nasce dalla letteratura e dalle evidenze dell'Europa del Nord in merito all'outdoor education, ossia l'inserimento di percorsi di apprendimenti in ambienti del tutto naturali. Nell'Europa del Nord sono andati ancora più avanti, iniziando a ragionare sull'indor e quindi portando queste esperienze, questi ambienti naturali all'interno di ambienti chiusi. Sono state realizzate scuole, sono state realizzate centri per l'apprendimento e quindi proprio su questa linea si muove il percorso La Natura Insegna, che ha voluto creare infatti una serie di ambienti, un ambiente bosco definito così perché ha tutta una serie di caratteristiche vicine a quella che è la nostra macchia mediterranea, chiaramente. È un ambiente dedicato all'acqua, un ambiente molto più rilassante, sicuramente più indicato per ragazzini con disturbi del comportamento, per stimolare appunto una serie di capacità nella corteccia prefrontale, attraverso la visione di una serie di colori specifici, attraverso i sensi, attraverso l'olfatto. Questo percorso vuole fondamentalmente migliorare quello che è l'operato intero del DSA Center Santa Chiara, che forte anche delle conoscenze portateli dal network SOS di Slessia, vuole portare avanti questo progetto di ricerca. Un progetto di ricerca che partirà ufficialmente ad ottobre, quando ad ognuno degli iscritti al DSA Center Santa Chiara verrà somministrato un test relativo alla conoscenza del loro stato emozionale. In base a questo verranno destinati, se così possiamo dire, in uno degli ambienti specifici creati all'interno della struttura. Ogni tre mesi verrà fatto un follow-up, fino ad arrivare poi a giugno con una raccolta ed uno studio dei dati per valutare quelle che sono state le evidenze della realizzazione del progetto. Una cosa molto importante è che questo progetto avviene con la collaborazione dell'ASL Salerno, da cui abbiamo avuto il patrocinio, e della Ragione Campania, che hanno ritenuto questa progettualità valida, anche come progetto pilota, per eventuali ripetibilità nel futuro.